Giuliana Desio, attrice, hanno dato le seguenti nomination. Allora, per migliore sceneggiatura The Space, Vittoria Di Nofi. Mi spiegamo. Special. 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 Space. Non mi entrava, ho già da dire. Non è in fatto. Non mi entrava, non mi entrava. Poi, migliore attore, Dunder, Gianmarco Tugnazzi. Migliore produzione italiana, Palomar. Migliore regia, Ivan Silvestrini, Dunder. Migliore produzione italiana, e qui ne sono due. Noi, i ragazzi degli anni Ottanta, e Fette di Salami. Migliore attrice, Laura Locatelli, di Il Salon Iadele. Poi, essendo a Napoli la città ospitante del Campi Fraglii Web Fest, un premio speciale, andrà alla web serie Fidati di me. Io vi ringrazio semplicemente della presenza, e vi do appuntamento a febbraio 2015. Grazie. 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 Grazie.